Allora io mi farei la zonia qua Che dici? Il cannone funziona? Il cannone? Boom! Funziona Ma a primo livello un po' ci sucherò Ma dopo? Allora AP AP AD AP APD Sì, quindi sì, vabbè mi faccio dai Funziona la Q? Sì, funziona Chi è? Ah no, c'è già la rimessa Non a me Non a posto, l'hai messa comunque Me nooo 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 Sì, ma lo sai, la fai tipo le fulla così Aspetta un attimo Vecchie Non so perché lagga Non c'è nessuno a casa Sei solo sul letto No, già mi sorella ma credo quella sa scaricò qualcosa, qualcosa Non credi? C'è scoperto Che cosa stanno scaricando? Non c'è credo Nel dippweb 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 Pensare che comunque sta in un palazzo quindi Sì, sì, questo è vero però Eh, lo so, ma non così Anch'io sei un palazzo Non è che Allora, ma questa tipa Che dice vuoi morire? Perchè loro al due noi no? Che è sta magia oscura? Perchè non abbiamo formato un cazzo Ah, quello è tutto chiaro Perchè a me? Ma come ho preso? Per pelo Ma ancora in azione è morto eh? Noo noo ora se come prende questo il bello è che io e cosa il nome se si lanciano lì a cerco sull'assero non ci morimmo perchè comunque l'user laser full laser full, laser full, laser full laser full, laser full, laser full laser full è meglio di te eh sì, poco di più però dato un poco di più, ora là ci siamo uniti per di vita le basta che il carico assicuro è sicuro si ma si può giocare così non non so non c'ho dubbio perchè non so come start a lui quindi faccio per ora faccio solo armor e faccio un'unità da armor e un'unità da ristezza magica cosi che me la so giusto non c'ho mai come mi fai pia a me oh io devo guardare un attimo perchè palle che questa sede fulla sempre qui lia giustamente diciamo un mio in due poi c'hanno lia non ho spiegato dai si ma tanto frano venuto arriva ora c'hanno il cazzo kane c'hanno il cazzo c'hanno il cazzo non l'ho capito io devo fulla che minion c'è con quella skin la q sembra più piccola cioè c'è un'altra skin è ottimo e se serve fulla dio e dai non puoi non morire ma non meno ma cazzo di spelle che mi fa saltare o tu aspetta giuro mi da un orto non è morto non è morto orco due o non è morto ma non è morta non è morta non è morta guarda lai domande e qua punto di quel punto non l'ha perché si è messo al coso come si chiama ciao c'è la che però un sito infatti c'ha 4% del mara 2% della salute 2 contro vabbè il mara non crede che riserva qualcosa vabbè no però di usare che ciò che vedete si ma sta a dire capociata oltre a morire non fa qualcosa la controllo liamola non sto già sul cazzo capociata sui denti accetta 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 preso presa presa io punto su un nami cos'è quel faccio che ci arriva da addosso? cosa significa? ah come come sono l'akia? come sono skin qua migliora più eh via che sperma io dico gominio ho la ultima eh vabbè bene occhio 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 l'ultimo mhm pensavo che mi metto centrale ma non so un coglione mi metto centrale eh lui si è fatto tutto add son culo coglione però quanto cazzo la seconda parte di fila no io ho un cane forza vieni qua vai antonio vai antonio opposto ottimo direi ottimo direi ottimo direi così mi trovo in la stessa stanza di Sasha Gray ho finito la ultima ultima c'è stato no vado 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 capociata 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 la sto attaccando io che bello e io ho ulto vado 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 no 2 2 vado ad E oh, parca puttana, sto cazzo di champion di merda, oh. Demonio. Mi dà il cazzo. Ma sei tipo un'ulto. No, non faccio danni. Credo del Darkhound, adesso lo staccato. Stanno qua, eh. Sono spagnotati. Sì, direi che non lo stanno a fare. Sì, sì, mi stanno a fare il Darkhound. No, non so. Ecco quello, l'altro. Allora, l'altro, sì, si sta a fare di... No, devo pure li puoi cacciare qui, sta. Ma zettata su ti. Vado, 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 vado. Da, da. Sì, vado, 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 vado. Da, capociata. Con la spelle, doppio tacco. Non è molto blizzica. Ah, perché l'ha ultato, questo che bello. Sento là, quelli, quei due, poi, uno speed da. Adesso, che ciò, 2100. Allora, però, questo lo metto qua, questo me lo metto qua. questa acqua è una monomid tipo ma sta arrivando a io 2 secondi dopo prendo un po' di roba dai quanto ma se lo vuoi da fa culo vieni qua vieni qua dove tu scappi lo scappi ulti meglio farò ancora più ap non c'ho paura la prova appena avvicino però mamma mia voce mette pure quella i lassi la 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 ma che cazzo ma perchè ne bloccava delle call dico io fate danni bravo caso ragazzo non diciamo full ap diciamo madonna mia blitz grunk presa 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 preso preso e prendiamo che prende a mondo il mondo proprio non c'è mai proposta cosa giusto non si tratta non so so che solo buccia mi debuto giuro non so che sia molto meno era brutto senso se ci faceva ammazzare pollo si prendeva una drago l'ho a pombo chiuso mette la vita il 1 2 1 3 in timore ci sono tre i al più li al di ogni spell che sono dica il dina mi e basta c'è quindi guarda un po' chi c'è qui mi la deve un altro po' eh io vi smerzo la vita io sono un tank mamma che mi frega grande soraga grande soraga grande soraga grande civil grande si grande blitz non mi fa come ultimamente mi voglio fare un rabata no? voglio vedere quanto oh mio dio oh mio dio non hai contato che c'ho il flash no eh? non voleva l'obrizio si mette sempre davanti un urto eh dall'urto quanto secondi c'è un'altra volta occhio all'ultimo beh l'ha tirata verso qua attento oh però guarda là un po' dopo la botta che c'è eh infatti sì ma tanto sicuramente ultimo in questo momento tu vabbè AC2 beh andiamo a mandare più sceni eh niente non muoio no yeah boom la bocciata sotto i denti che la bocciata sotto i denti via ciao lo copro io po' di mignone non li sto solo guando vai le gold che mi faccio la voice a così meno buco della magic resistance dai dai io li do a beccare ho 3500 gold gold dicevo il grab bello sto grab eh no c'è la cosa messo pure lei ti viene a prendermi mai non la stanno fucire ma se non è la fine di mio obiettivo è tutto il team d'oro pensa che qualcuno ha finito io ma faccio la warm up in tanto modo se ti manco un fare m un attimo a cubo ala con un basso Ci sono tespidato Bellus 3 Su Baron Bellus su Baron C'è quella zeria Che non so cosa fare Eh ne ho un buco Allora io vengo dal buco del culo di dietro Infatti mi vedrà in questo istante Però Mi ha voltato quindi sta ancora qua Mentre il bash Provi no Ragazzo stava Stanzi in base Eh no sta in top Minchino smezza e zerial Aspè che facciamo più vtp Bisogna s'asservata Quella per me sempre Perché devi ingaggiare così Porcatroti Io non ti avrei seguito Non c'è stava nessuno Nei nostri Ragazzi c'è il Drey comunque Oh guarda un po' Oh Mi avete fatto cazzare eh Mi avete fatto cazzare eh Mamma mia mi avete fatto cazzare al mondo Mi avete fatto cazzare Blitz vieni qua Blitz vieni qua Vieni qua Blitz Vaffanculo Blitz Vai Drake Vai arrivo Tanco io Allontanati Tanco Guarda qua ho sciato Guarda qua ho sciato Guarda come me le fullo Mamma mia Mi faccio pure la warmung E' finita qui 50 cost? Sì aspetta aspetta Allora AP è questa Però non creder mi faccia tutto sto danno Però Blitz è AP Ah pezzo di merda Si sta facendo AP Testa di cazzo Siamo che mi faccio io però Porca trota Mamma mia se è vancazza Però a me la perciò l'attacco Forza Non so proprio che fammi Faccio questo Eeeh Questi non mi lascio Oh vabbè vengono addolto Risposto 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 Vengono ad acqua presonata Mee 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 BOOM Perfetto Dai io cammino e mi faccio i minion Hai il dao buff Sto le zerial Mee Ma ma tanto non c'è più i danni C'è una e l'ho smizzato Eh no Così non vale Così non vale Così non vale per niente Niente Testata Vieni qua Sivir Sivir Ma io sono Mundo E io sono Mundo Mundo fa dove vuoi C'ho zonio, non ho mai usato la zonio Guarda 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 diamo se funziona Noo vuole andare sotto torre e vedere il cazzo scato Ma che palla me Guarda guarda Ma che cazzo Proprio che felice Mi vado e mi fa E guarda dove ritornare tipo per le tre intorno alle tre ma sono le quattro e mezza Qualcosa non quadro E questo è un bel problema 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 Oh ho fatto la missione Alleluia Però funziona sempre in un modo come madre I danni funzionano Si alla funzionare i danni Si si Confermo Però B più vaffanculo figli della merda Non è possibile Come madre è sempre funzionato Che quando mi dice Mi venga l'onorario Adesso apri una cassa Cos'è il biglietto degli auguri Adesso dico Vedete fa sempre così Guarda io per le quattro sto qua Vedete no Sono le cinque e le chiamo Io dove fa? E gli faccio ma dove stai? E sono dentro l'ascensore Allora Ah Quindi per te le cagliamo Infatti ora gli mando un messaggio e gli dirò Do stai? Sto aprendo la porta Trum trum